A me piace il gelato, io mi diverto a farmelo da me con la macchina del gelato in tre minuti dal gelato più buono che c'è. Succhero e latte frutta a piacere, mi va la macchina del gelato, in tre minuti di è prelivato, e se rimani senza ingredienti, ecco il cameo, sono belli e pronti. Mi va la macchina del gelato, in tre minuti di è prelivato, la macchina del gelato è G. Distribuito da De Franchis Giocattoli, Milano.